e ciao a tutti ragazzi sono glitch 444 oggi siamo ogni carta è di un gioco differente l'icon pack che hanno vinto un pallone d'oro almeno un pallone d'oro che è una collezione iniziamo dal primo rainbow pack e c'è una probabilità su due di trovare un walkout quindi dovremmo essere molto fortunati questi pacchetti the young matto 2 vedete eccoli qua 3 walkout sperati rainbow pack number 2 non so che tipo è come un altro rosa rosa ho visto rosa non so perché pepe pepe ora eccolo ok ok quarta starfeminis costa d'avorio cb colture a caso a caso vero veramente colture poi mandai che cazzo di 4 walkout per ultimo rainbow pack rosso francia cm è un po gba non so 90 91 90 double count ultimo rainbow totto cb informa pari marquinhos ok ai one pack suo termine raga finalmente di questo spacchettamento nigeria o coca per forza non so se 90 85 86 e infine il golden ball pack del bambino 90 99 baggio 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 Non ci sono le tirano, non sennò avrebbe fatto qualcos'altro, vabbè vediamo un po' di cose che ho trovato Allora vi dico subito cosa ho trovato, ho trovato Messi che non mi fa Allora quello che sapevo che abbiamo trovato, quattro barzagli, sicuro Poi Valdez, questo qua doppione, due Crouch, due Pogba di cui è un doppione Neymar, Sterling, Muller, poi abbiamo trovato, ah anche Sergio Ramos Abbiamo trovato Messi 100, cioè assurdo Torres 99, Bazzagli e Cecco sono i migliori, perché sono 99 grazie E poi altre carte tipo tre seghe, Neymar e non riesco ad allungare Allora comunque avete capito, ho chiuso il gioco, fuck Va bene, vediamo la mia squadra, vediamo se riesco ad inserirci Torres No, ho sbagliato, Torres Vediamo, metto Torres qua No, non posso metterlo, vale la pena metterci, ma perché metto Stem? Vale la pena metterci, e tu? Facciamo lo switch Vediamo qua, Busquets, così anche Daniel Alves fa il più uno Prima di andare io proverei a farmi una partita Nelle Divisions Qui non ci ho aggiunto nessuno, speravo di averci aggiunto almeno uno Però, va bene Diciamoci una sola partita, giusto perché se no il video dura 4 minuti Se ci trovo l'avversario, eh, se ci trovo l'avversario Eccolo qua, per capremo l'avversario Il problema è che io ho più carte difensive Mettiamo Cia Vicento Ah Penso qua già vuole fare le tattiche Sta sulle sue Io vado a difendere perché Comunque Non voglio scudibrarmelo Con l'attacco Perché ho solo In questo momento ho solo le 3 carte che attaccano Quindi Ok Mettiamo Piche Sì, questo qua fa Ok Allora, questo qua Non ha capito l'intesa Va bene Cioè, Mangoloid Difendiamo con Busquets E poi attacchiamo di nuovo Tanto basta che vinco questo Ho vinto Ho vinto Cioè, questo qua è Mongolo Cioè, difende con un C e M C'è un sacco di gente che fa Ste cose Stupide Cioè, che difende Difende, difende con gli attaccanti Poi alla fine Se esce con le sue carte più forti Anche se ormai Già sa di aver perso Perché Ovviamente sono 11 carte Quando uno arriva a 6 Ha già vinto Modric Vabbè Lo difendiamo Vabbè, lui non c'è nessuno Vabbè, vinciamo 11 a 0 Cioè, seriamente 11 a 0 Vabbè Ho vinto in tutto GG Va bene Nelle divisions Di questa settimana Perché ogni settimana Se aggiorano E si fanno le ricompense Questo è Il gioco con cui Sono riuscito a guadagnarmi Tutti i pacchetti Che sono il rank 2 Di divisione 9 Sono di skill rating Non lo so 197 E per arrivare a Division 8 250 Ditemi se volete una piccola scalata Non lo so Qualche serie Nel frattempo ho due cose da riscattare Di pacchetti Vabbè, andiamoci a aprire Allora Questi due pacchetti Vabbè 3 Ah, vabbè Match reward E due special Peccato che non ci sono I later rounds Sono morti Due secondi fa Mentre spacchettavo tutto Vabbè Ultimo pacchetto Di questo Spacchettamento Super mega Vabbè Champions League Buona Cm Pianni C'è stato un po' Va bene ragazzi Se Queste 5 parti Mi sono piaciute Dovete lasciare un like A tutte e 5 Vabbè Mi sembra giusto E comunque Lasciate like A tutti i miei video Che sto pubblicando E sto registrando Perché ultimamente Quest'estate Mi sto Impegnando veramente molto Perché io Ma no Perché Vabbè Non so Lo sapete Io Ho 15 anni Quindi Non 15 Sì Sì Non li registro Ma Io Cioè Non voglio avere Problemi a scuola Quindi Non so Se restare Inattivo O Preregistrare Un sacco Di video Ovviamente È la seconda Quindi Vabbè Se tipo Sentirete cose Estive Di video Perché L'ho pre-registrati Ovviamente Vabbè Noi ci vediamo In un prossimo Video A Ciao Vabbè